Qui in questo video vedremo come si fa ad applicare questi intagli, questi ornati di pasta di legno che ho fatto precedentemente, come si fanno ad applicare su questo telaio qua di cornice. Praticamente vengono applicati sopra con della vinabil, colla da falegname e poi gli si sparano dei chiodi con una pistola aerea compressa per fissarli qui alla superficie della cornice. E adesso vedrete il procedimento. Ok, qui vedete come utilizzo questa sega, che è una sega manuale, per tagliare questo ornato a 45 gradi e una volta che l'ho rotellato a 45 gradi si potrà applicare appunto sulla cornice. metto qui, faccio questa cosa qua, vedete? Ecco qua, metto la colla, poi l'applico qui questa è una spara spilli una spara spilli non è una spara chiodi è un po' più sofisticata questa pistola qua qui sto attaccando il secondo ornato perché sono tutti lunghi 30 centimetri, non di più altrimenti si spezzano quindi vedete, qui parte, poi c'è la continuazione lungo tutta la cornice e vengono applicati nello stesso metodo, nello stesso sistema allora, come vedete qui, se guardate questo punto qui finiva quello, insomma il primo che ho messo tagliato a 45 il secondo anche tagliato a 45 si va ad attaccare lì così e proprio non si vedrà la giunzione una volta che le avremo steso un'altra mano di gesso sopra questa giunzione non si vedrà più giunzione non si vedrà più Grazie.